Preghiera della sera O Dio, Tu ci hai destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Lui è morto per noi. Donaci di comprendere il grande mistero di questo immenso amore, perché sia che begliamo, sia che dormiamo, viviamo sempre insieme a Lui. Amen